Buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avrete letto dal titolo andremo a vedere insieme come completare il terzo sigillo della forgia di Volundr e ottenere quindi l'emblema visione di Meirin. Premetto che per completare questo terzo sigillo dovrete aver completato la taglia dell'arco potente della forgia di Zanami e aver quindi ottenuto la Zanna Maligna arma con la quale potremo vedere i simboli per ottenere questo sigillo ma andiamo subito a vedere come fare. Come al solito dovremo recarci alla forgia di Volundr i simboli che potremo vedere con quest'arco saranno posizionati intorno all'entrata più precisamente dovremo salire sulla farfalla posta sul pavimento che potremo vedere alla destra dell'entrata. Una volta sopra questo simbolo dovremo quindi sparare una freccia agli alberi che si trovano sulla cassa lì accanto e un'altra al foglio posizionato sulla stalattite alla nostra sinistra. Fatto ciò dovremo spostarci più verso l'entrata per salire sopra un simbolo di un mezzo sole. Da qua dovremo sparare due volte al simbolo del cuore che vediamo girandoci verso la caverna per poi colpire un'altra volta gli alberi sulla cassa e guardare in altro dove dovremo colpire l'ultimo simbolo ovvero quello delle ali. Fatto ciò avremo ottenuto l'emblema visione di Meirin. Per completare quindi anche il sigillo legato a questa sfida dovremo recarci alla caverna sul lato destro della mappa. Qui dietro a un grande masso, precisamente quello in cui abbiamo visto la trascrizione dei Volundr nel video dei segreti della forgia, troveremo il drone del terzo sigillo che potremo quindi acquisire. Detto questo ragazzi io vi consiglio di non perdere il video che uscirà domani riguardo all'attivazione di tutti e tre i sigilli e la scoperta di ulteriori segreti riguardanti tutte le forge. E detto questo io direi che se il video è stato utile lasciate un like, commentate e condividetelo. Di tutti quelli che non conoscete e che non conoscete c'è la talissima seguite anche su Instagram, Facebook e come ogni video vi lasciamo qua sotto la descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, fantastissimo sito. E detto questo ci vediamo alla prossima. Ciao! Io sono Gaud, per la tua luce è mia.